Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione delle azzorre lentamente comincia a migrare dalla Spagna verso l'Europa centrale, abbracciando anche la nostra penisola. Quindi dopo diversi giorni di tempo perturbato, finalmente vivremo qualche giorno di stabilità meteo su Puglia e Basilicata. Qualche disturbo invece potrà ancora presentarsi al mattino sull'estremo sud, sulle aree tirreniche e sui monti del centro Italia. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 23 settembre. Fresco al mattino con possibilità di rovesci più consistenti sin dalle prime ore dell'alba su Brindisino e Salento. Precipitazioni più deboli potranno ancora interessare il Barese e il Materano, ma il tutto si esaurirà velocemente entro il primo pomeriggio. Dalla sera cieli stellati e aria più fresca ovunque. Le temperature risulteranno in ulteriore calo, soprattutto nei valori minimi, stabili invece le massime. I venti soffieranno ancora moderati di maestrale, in particolar modo lungo le coste, al mattino e nel primo pomeriggio. Indeciso indebolimento in serata su tutti i settori. I mari da poco mossi a mossi, sia l'Adriatico che lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo la nostra telespettatrice Maria Pia Chierico da Altamura, che ci regala un suggestivo arcobaleno immortalato nelle campagne foggiane, in direzione Gargano. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto del giorno verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.